Adesso proviamo a mettere insieme un po' tutto, rimaniamo sempre con gli esercizi per unire i due registri, quindi ancora non ci abbiamo esercizio sul mix belting, mi raccomando non vi preoccupate facciamo gli esercizi per legare i due registri. Quindi adesso facciamo una scala, facciamo una scala come si fa sempre, anche in questo caso parto dal Do, quindi ideale per le voci maschili, mentre quando arriverò verso il Fa darò indicazioni anche alle voci femminili di partire, comunque provateci, non è un grosso problema se partite un pochino prima o un pochino dopo. La scala è sempre la stessa con la nona, scusatemi non vi ho detto con che vocale farla, facciamola con la A, mi raccomando anche qui l'attacco, un attacco pulito che sia senza aria, quindi se avete bisogno di mettere una M, una G fatelo pure se sentite che c'è aria, se no fate tranquillamente una A, quindi bene. Ok, buoni fiumminili di contralti. Chiaramente le voci maschili adesso si possono un attimo fermare se hanno bisogno. E abbiamo due registri anche col falsetto ragazzi. A, mi raccomando. Facciamo l'ultimo. Ok, perfetto, bravi.